Vergara e Il Catania Continuando a lavorare per avviare una vera e propria trattativa. Il ritorno a libertà di Nino Pulvirenti in qualche modo potrebbe risultare determinante in questo senso. Riservatezza massima al momento, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa anche esserci un incontro tra le parti. Vergara da tempo ha in programma un viaggio in Italia per fine giugno e in quella occasione potrebbe incontrare rappresentanti di Finaria o lo stesso Pulvirenti se dovessero maturare le condizioni per un faccia a faccia tra i due. Ma al 14 giugno la priorità a Torre del Grifo si chiama iscrizione al campionato e anche allenatore. La scelta della guida tecnica sempre essere arrivata all'epilogo. Gautieri è il nome in cima alla lista, ma Pietro Lomonaco tiene aperta la porta a De Zerbi che ha incontrato il Foggia e che sta anche ascoltando la proposta del Crotone, che nel frattempo ha chiesto e ottenuto parere positivo dalla questura di Catania per giocare, in attesa della conclusione dei lavori di adeguamento dello stadio Scida, le partite a casalinghe al Massimino. Staremo a vedere. Tornando al mercato del Catania, detto di Pissari, Cianci e Biagianti, Lomonaco nelle ultime ore avrebbe anche sondato il terreno per il difensore Meola del Matera e per due giocatori del Benevento si tratta del centrocampista Angiulli e dell'attaccante Marotta. Entrambi hanno contribuito, nello scorso campionato, alla promozione diretta in cadetteria dei campani.